Pico ha trasformato lo scivolo di casa mia! Gorge! Non so come abbia fatto, ma sembra divertente! Se puoi creare uno scivolo, fa clic su uno dei tasti livello! Eccellente! Hai finito! Ora fa clic sul tasto che lampeggia e che il divertimento scivoloso abbia inizio! Eccellente! Hai finito! Ora fa clic sul tasto che lampeggia e che il divertimento scivoloso abbia inizio! Se puoi vedere qualcun altro scendere dallo sci... se puoi vedere qualcun altro scendere dallo sci eccellente hai finito ora fa click sul tasto che l'anteggia e che il divertimento scivoloso abbia inizio e e e e e e e Oh Se vuoi vedere qualcun altro scendere dallo sci... Oh Se vuoi costruire un nuovo scivolo Fa clic su un pulsante livello